Viviamo in un'epoca molto tecnica che risveglia il nostro desiderio di natura. Ecco perché siamo sempre più circondati da materiali e prodotti che contribuiscono al nostro benessere negli ambienti dove abitiamo e lavoriamo. Questa tendenza sta creando sempre più prodotti che rafforzano il nostro rapporto con la natura. Come i panni di ceradapi che grazie alle loro proprietà sostituiscono in modo sostenibile la pellicola trasparente convenzionale. Naturalmente il design e l'estetica devono seguire questa tendenza. Nel design degli interni il rovere rimane il legno di tendenza numero uno. A partire da un rovere rigato molto naturale e fino all'odierno rovere fessurato e nodoso, negli ultimi anni questo legno si è dimostrato molto versatile e autentico. La sua naturalezza genera tensione in contrasto con le forme e i materiali moderni.